buonasera ci troviamo al lito del sole la proposta immobiliare di oggi 20 giugno 2019 riguarda un trilocale vista mare al secondo piano diciamo lato opposto a quello che ho fatto vedere già nell'altro video nel video precedente praticamente si trovano ai due lati opposti ecco dalla finestra possiamo vedere la corte interna che è condivisa tra tutti i condomini mentre dall'altra parte c'è appunto il beatrice 29 che appunto l'appartamento opposto in questo momento sto inquadrando il soggiorno qui c'è un letto con un altro letto estraibile ecco qui questo è il soggiorno fuori c'è la verandina che andremo a vedere dopo e diciamo questo è il più panoramico che ho come appartamento è un trilocale di 70 metri quadri a 20 metri dalla spiaggia è un 6 posti letto ed è inserito sempre all'interno del residence beatrice ed è la tipologia vista mare poiché il residence beatrice è composto da varie tipologie di appartamenti vista mare non vista mare piano terra primi piani secondi piani ecco questo è il soggiorno ancora l'appartamento è dotato di tutto ciò che occorre per la casa qui ci sono le tazzine i piatti bicchieri e via dicendo che abbiamo scolapasta l'insalatiera qui le scope scopettoni secchi ombrelloni e qui c'è la veranda la verandina che poi alla fine andremo a vedere mentre qui abbiamo la cucina frigorifero in cucina ancora abbiamo qui tutto ciò che occorre per la vacanza ecco per la cucina e per poter soggiornare insomma senza dover portare alcunché da casa propria la cucina a gas qui abbiamo il forno con la cucina con la bombola gas qui è un cucinotto alcuni appartamenti hanno una cucina un po più più spaziosa altri hanno una cucina un po più piccola oppure altri appartamenti hanno un bagno un po più piccolo altri altri ce l'hanno un po più grande comunque la metratura è sempre quella 70 metri quadri bene c'è un attraversando un piccolo corridoio arriviamo subito al all'altra camera da letto la camera da letto principale quella matrimoniale i letti sono sei quindi potrebbero essere anche uniti tra di loro per poter dormire anche in sette volendo se se ci sono dei bambini piccolini qui abbiamo questa finestra con con vista sul mare questo momento c'è un sole fortissimo mentre da quest'altra parte passiamo all'altra camera da letto ecco qui abbiamo la finestra e il bagno è un bagnetto piccolo con un box doccia diciamo ecco qui da bagno nuovo il corridoio e infine abbiamo questa verandina con una vista spettacolare sul isole trepiti che oggi non si vedono tanto bene però da questo lato si riescono si riescono a vedere anche le tremiti nei giorni nei giorni diciamo più più sereni più chiari si vede si vede tutto nitidamente anche il tramonto anche i tramonti da questo da questo lato sono spettacolari mentre qui abbiamo la nostra spiaggia privata con gli ombrelloni con gli ombrelloni arancioni di fronte c'è la spiaggia libera e questi invece sono i posti auto il posto il posto auto di questo appartamento è proprio beatrice 22 infatti ci troviamo al beatrice numero 22 ecco questo è l'ingresso bene e io con queste immagini di questo splendido inizio tramonto diciamo vi saluto e vi do vi do l'appuntamento alla prossima va bene grazie per l'attenzione e buona serata